Per parare è meglio, è infatti. Olè. Bosta Golia, non era così scelto, minchia. Minchia era divertente il Golia. C'era ogni tanto il Golia, cazzo. Perché prima c'era un po' di tutto. Lo spettro è scomparso, eh. Il spettro era il più piccato, ragazzi, ricordatevelo. No, vabbè, poi quando avevamo giocato noi gli ultimi tempi era anche lì poco piccato. Io ti parlo ai miei tempi, tempi grossi dove ho giocato io. E sono stati... Bella sfiga, cioè lo spettro non è divertente da combattere. Ma adesso ci fosse, non... No, una volta, non era divertente. Non mi spaventa per un cazzo. Perché scappavo e basta, stage 3, fu un vito. Perché noi eravamo anche più scarse sul track. Bene, va bene. E adesso tutto aveva una migliaia di basi proprio, mancava. È perché era molto più difficile trapparlo prima. Minchia, se era di fine non avevi lo speed, non sapevi proprio dove andava. Era invisibile poi. Era invisibile, dovevi traspare... C'era un casino la fauna, per dire, con Eby. Infatti Eby, a me piaceva anche per quello. Sì, ora troppo drastico il cambio. Cioè, zero totali, eh. Ormai, zero, 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 zero. In realtà, hai visto quella giorgone di prima? Gli è stato un attimo... Di due. Stage 2 dopo un minuto e mezzo. Ah, sì. Tempo che noi ci muovavamo verso dove l'abbiamo mistata e era gesto in G2. Sì, sì. Improbabile. Anche se ora che lo... Che dici? Boh, avrà avuto velocità di retrizione. No, perché poi aveva la riduzione a 1.8. Quindi dici... No, è che si muove come un fuso da... Guardalo là. Ho mai visto uno così più veloce. Come la Gorgone di prima? Sì. È stata la più veloce che ho visto finora. Però poi a fightare non è che era un mostro, eh. No. Come si muoveva. Ora io in 2.20, 2.30 ce la faccio anche a Wolverine, ma in 1.30 è impossibile. Però era il più basso che ho visto, eh. È là sotto. Andate, dove sei, Goliath? Là. Beh, te pareva che non cannassi. Nella parte opposta, no? Sì. Dove? Sinistro o destra? Beh, sinistro non lo vedo. Eccolo. Lo catturate? Bello. Dovrebbe essere anche bello qua, perché avete la... La colonna. Aspetta che rompo la pianta carnivora, eh. Sì. Sì. Hai visto dove saltarlo? Ma la pizza di danno? No. No, niente. C'era con me, ragazzi. Ho preso anche me che stavo dietro. Che cazzate. No, ragazzi. Ora fa la roccia, eh. Nascaldetevi. No, sta scappando da me, Brad. Ti salti anche all'inghiede, minchia. Sono rimasto su abbastanza bene, dai. Minchia, sei stato un fico paura, Brad. Te l'ho detto, non vai giù, Brad. No, ma ho avuto problemi anch'io, eh, raga. Minchia, ma hai visto che roba che è, scusi, il demon è... È posseduto, non è un demonio normale. Cioè, proprio fa delle cose al suo corpo che non potrebbe fare. Pianto l'ha fatto un salto, però all'indietro. Non capisco, ho paura che sia tornato giù, eh, raga. Sì, 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 è qua. L'animazione era tipo un salto in avanti, però andava all'indietro. Come se tornassi lì nel tempo, là. Tornato giù, quindi, stegli addosso, adesso è indietro. Taglio, eh. Sì. Vabbè. Poi ha fatto un lip smash. Quello con cui ha aperto. Sì, sì, un chilometro di lip smash. Tornato dove stava prima. È affezionato. È nel tunnel, tezza. Minchia, che scazza non essergli mai addosso per cinque secondi. No, 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 chiudete dal lago. Perché erano jetpack. Sei arrivato in Cina. Oh, ma che cazzo è arrivato? Niente. Teletrasporto di Goku. Ok. Va bene, Goliath. Ce l'avevo davanti agli occhi, eh. Ho fatto tre salti e ha cambiato mappa. È andato su distilleria, è arrivato. No, mica l'avremmo devastato. Ma cosa è ancora qua dentro? No, no, è in spiaggia. Come è in spiaggia? Fa spunti in spiaggia. Prima sto buco non c'era. L'aggevolazione per i mostri, eh. Da via in più. Ho mandato l'uccello, Red. Gli sto bene, non sa mai. Aspetta se dite un passo. È qua vicinissimo, eh. No. No, non è impronta, cioè se ne sta proprio sbattendo. Eccolo là. Mi sta arrivando proprio da noi. No, no, non mette tra la cucciola. Vabbè. No, più Grimm. Questa non te la posso parare? Sì. Sì. No, 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 no. Vuole andarsene. Preso. Non c'è la comprando. La prendo. Uuuuh, la cannata. Poglione. Mi c'è andato. Vabbè. No. Che cazzo ha fatto a prendermi? No, la metterlo. Presta troppo. Presta, meraviglia. Minchiavano, io riesco a star dietro. Ma insiste veramente? Cosa? Ho preso io, che non è? No. Orbe. Vabbè, tieni. Bello quel cavo, cazzo. Chi è andato giù? Io. Loro due. Prima troppo, c'è la tirata a terra, io in aria, danno lo stesso. Stavolta non sono riuscito a parare. Per il movimento qua. Qual è? No, il movimento ci serve. Prendiamolo assolutamente contro di lui. Ma vogliamo un sacco di tempo. 25. No, 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 andate, andate con Red. Eh, no, boss, amo qua ormai. Eh, infatti. Red. Ehi, no, lascia stare. Vabbè, ok, però placati un attimo, perché. Sì, sì, mi sono fermato. È di là, io l'abbiamo preso, un e-grim, ce l'ha. Sì, infatti. Ma voi serve di più di me. Io ce l'ho già di base. Ma ora più che altro sul tracking stiamo più corretta anche. Eh, vabbè. Ma andiamo al relai, siamo già qua. Beh, non ha bisogno di altro che fa sp... Eh, sei a 300 metri da me. Il relai è vulnerabile. Te che ce l'ha fatta, eh. Mi ha fatto grimme prima, ero un po' in panico, perché non riuscivo a curarti, che scappai troppo lontano da me. Quindi quanta vita ha, metà? Metà vita, metà scusa. Qualcosa ha spaventato gli uccelli. Scusa? È qua, ragazzi. Ci viene addosso. Eccolo. Oh, basta sta cosa. Ok, mitraiettrice di danno. Sa? Ok. Ma non scendiamo, provo a starci solo io qua solo. Sì, sì. Destra. Ma oh! Chi è che mi ha fatto ben colpo? Niente. Niente, provo a scendere io se riesco. Anche se dovrei star davanti. Metti i paletti qua, cominciamo a metti i paletti, Red. Va. Eccolo. Brava. Stupido appagione. Dieteli, dieteli, dieteli. Ma cosa, minchia? L'ha tirata in cazzo. Tiriamo la pupola, raga. Tirate la pupola. Molto nel sugo. Grande. Il Red con la... Proprio? Minchia, però sto andando giù. C'è la seconda così greco. Oh, c'è la con me. Minchia il cavo. C'è poi ti dà un cazzotto. Ti è finita a terra se stai volando. No, Red. Vuole farla finita con tutti, eh. Sicuro, eh. Ok. Bella. Da dei bifini che c'ho troppo con la cura, eh. Vai. Eccola. Sì. Lo prendo. Minchia di muscoli, proprio. Un braccio di ferro mi hanno spezzato. Minchia. Chi è? Vuoi scrivere qualcosa, Red? E' Gli voglio scrivere. Ha.